Astronauticast Astronauticast stagione 5, episodio 6 Si sono incastrati i volumi, ecco lì che se ne va, la musica se ne va Astronauticast stagione 5, episodio 6 Siamo al sesto ma non siamo ancora venuti a capo dei problemini tecnici che ci accompagnano forse da 6 stagioni quindi non aspettatevi niente di meglio a breve Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano Sono qui da solo, non c'è Paolo Amoroso perché da un po' di tempo non è di Studios di Milano ma non è neanche in collegamento remoto, di solito dovrei passare a Marco Zambianchi ma non è in collegamento remoto neppure lui, anzi è qui a Milano ma non è disponibile per il podcast quindi andiamo a Ovesticino dove c'è il nostro Luigi Morielli Un saluto a tutti da Luigi Morielli Luigi Morielli è astrogition.blogspot.com Da Ovesticino ci spostiamo sotto il po' e c'è il nostro Riccardo Rossi Sì stasera sono in configurazione altamente fuori fuoco ma ho un problema alla webcam, ho un problema al cervello decidete voi. Ciao a tutti da Modena, ciao agli ascoltatori in diretta e ciao a qui ci ascolta in differita. Quando dico ciao a tutti gli ascoltatori da Modena nel senso che io sono da Modena e saluto tutti perché sennò poi dopo Quasar si incavola e mi dice hai salutato sono quelli di Modena Perché c'è qualcuno che tiene, ti conta le parole in questo modo? Quasar è uno dei nostri ascoltatori più assidui, no? che è articolista di punta di astronautinews.it il nostro Filippo Magni che salutiamo in chat Ciao Filippo, veramente però adesso dagli un attimo di tregua a favore Riccardo Ok, corriamo alla scaletta Saluti diritto e li abbiamo fatti, adesso li cancelliamo Ok, aggiornamenti di tipo istituzionale Parliamo di Isa per 5 minuti e abbiamo anche le nostre pagine su Google Plus perché da buoni nerd occupiamo uno spazio anche su Google Plus Google Plus è il social network di Google pensate se non siete dei super nerd che sono completamente allineati con queste novità o pseudo novità, ormai non è proprio novissima è il social network di Google, è una cosa che assomiglia molto a Facebook con i dovuti distinguo siamo anche presenti lì perché da questa settimana è possibile mettere pagine istituzionali che sono diverse da una presenza di utenti non è possibile, prima era possibile soltanto registrarsi come utenti come utenti persone con un nome o un cognome adesso invece è possibile avere un account che rappresenta un'istituzione un club o un negozio o un brand o quant'altro noi abbiamo deciso di andare su Google Plus con forum astronautico, con Isa, con astronauti news e con astronauti cast al momento il contenuto scarseggia nel senso che Google non ha ancora fornito un modo per pompare contenuti in maniera automatica da dentro a Google Plus quindi dobbiamo inserirli manualmente diversamente da come riusciamo a automatizzare un pochino le nostre pagine su Facebook però se avete occasione di utilizzare Google Plus e volete accerchiarci come si dice in italiano? circle o encircle in inglese sarà accerchiare qualcuno, metterlo in una cerchia cingeteci bellissimo cingeteci in una delle vostre cerchie bello perché accerchiateci questi nuovi paradigmi hanno tutta una semantica particolare la prossima volta che dico semantica potete fare un pernacchione o qualcosa di simile che me lo merito è interessante vedere come si devono trovare dei verbi che non sempre si traducono molto bene nei vari linguaggi comunque accerchiateci e cingeteci su Google Plus cercheremo di portare il contenuto anche lì ad ogni modo la cosa più importante di questa settimana è stata la giornata di martedì martedì sera al planetario di Milano ha ampiamente annunciato nelle puntate scorse c'è stata la conferenza di Samantha Cristoforetti che ha parlato della nostra casa nello spazio come era il titolo della conferenza la stazione spaziale internazionale pubblicando fotografie mostrando fotografie e video dell'attività sulla stazione spaziale e raccontandola a un pubblico decisamente ampio non era pieno pieno ma c'era un bel po' di gente Riccardo tu che eri presente? hai visto la platea molto meglio? tra l'altro molto bello il planetario di Milano che non c'era ancora mai stato e diciamo che l'affluenza di pubblico secondo me era come hai detto tu non c'era il tutto esaurito però insomma una risposta secondo me positiva dei milanesi e anche dei modenesi perché sono venuto fin da Modena ma dovevo vedere anche voi che vi voglio bene ah beh ma sicuramente sì dopo un'introduzione di Fabio Peri direttore del planetario che ha mostrato anche il planetario in funzione come prima di ogni conferenza sotto il cielo stellato Samantha ha cominciato a fare la sua conferenza ma la cosa che probabilmente aspettavamo di più noi di Forum Astronautico era l'occasione come dire non goliardica ma gioviale dopo la conferenza di trovarsi tutti insieme e fare quattro chiacchiere vis-à-vis che è una cosa sempre che ci fa piacere quindi ringraziamo tutti i forumisti che essendo a Milano o dintorni si sono fatti vivi anche abbiamo conosciuto anche un utente che non avevo mai visto tra l'altro il nostro MC Hammer che dovrebbe essere anche in chat quindi salutiamo scusate ho la chat sepolta c'è 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 quindi lo salutiamo ciao mi ha fatto piacere conoscerti è stato molto molto bello vedere persone nuove perché ci si conosce non è che in realtà ci si conosce ne abbiamo parlato incontrarsi così è un po' sempre come incontrare amici che si conoscono da tanto tempo la sensazione è quella ma perché in realtà è così insomma alla fine siamo amici e e conoscenti parliamo tutti i giorni quindi è come se fossimo amici di lunga data poi chiaramente i rapporti personali sono un po' diversi e se fossimo magari vicini tutti i giorni non ci potremmo sopportare però è un rapporto molto molto bello quello che si viene a creare online la comunità di forum astronautico è una delle più belle in cui sono mai stato mi commuovo sempre un pochino poi insomma visto che quest'anno astronauticon è spostato cioè dovevo per forza vedervi a novembre per tenere viva la tradizione si si è vero oh c'è qualche problemino con la inquadratura lo sistemo intanto niente ringraziamo soprattutto Samantha per essere poi venuta in pizzeria con noi ed abbiamo avuto un momento molto molto bello è sempre bello rincontrarla è sempre bello a farsi raccontare un po' com'è il suo percorso verso verso le stelle letteralmente ok done select fatemi salvare hang out vai vai parla intanto cosa stavi salvando Mike non ho capito no ho rifatto quando quando inquadravo vabbè storia lunga quando cambiavo l'inquadratura c'era siccome le dimensioni dello schermo sono cambiate c'era un po' di cose da sistemare robaccio tecnico dalla chat chiedono se Samantha in pizzeria era con la tuta di ordinanza no era in borghese chiaramente e tra l'altro non ha finito la pizza l'abbiamo finita io e Marco perché giustamente siamo delle fogne e con la pizza chiaramente Marco e io non ci potevamo tirare indietro però il minestrone non l'avete voluto no non ce la posso fare ma ce la potevo fare vabbè comunque una serata molto molto bella diciamo non è un evento privato chiunque del forum poteva unirsi quindi stiamo parlando dei fatti nostri perché è una serata tra di noi però era una cosa pubblica soprattutto la conferenza era pubblica quindi ci ha fatto piacere raccontarvela anche brevemente però gli appuntamenti non finiscono qua se volete per qualche inspiegabile motivo vedere le facce di qualcuno di Astronauticast e di Isa ci sarà Astrofest a Erba sapete il polo orario fiere negli ultimi anni ha ospitato Astrofest Luigi ha i dettagli perché penso che vada anche lassù sì sì in effetti ci sarà lo stand Isa con il planetario di Lecco gruppo di Space e porteremo la riproduzione 1 e scala 1 1 di Spirit e ovviamente io sarò in doppia veste sia come consigliere Isa al banco Isa e poi farò starò anche un po' al banco Celum che è sperabile che siano vicini per non dover girare mezza in realtà chi tripla veste perché non tutti sanno che Luigi è anche una drag queen e quindi quello si vedrebbe si vedrà direttamente perché poi io mi sposterò vestito così e beh certo la terza la terza è quella il fil rouge diciamo così bene comunque sarà sabato e domenica dalle 9 del mattino alle 6 di sera invece l'altra cosa di cui però non ho gli orari è la conferenza di Paolo Nespoli a Oggiono il 25 novembre è confermata l'ultima volta che ho guardato la wave c'era scritto un da confermare grosso così allora è sparito è confermata non si sa beh può essere Marco parlava giusto martedì mi sembrava che era direi confermata comunque ve lo faremo sapere ok ci sono buone probabilità che Paolo Nespoli il 25 novembre sarà a Oggiono non saprei dirvi dove potrebbe essere potrebbe essere il centro sportivo di Oggiono perché l'ho visto ed è effettivamente dove è stato ospitato l'altra volta però chiaramente i dettagli li trovate su forumastronautico.it nella sezione manifestazioni ci sarà un thread o c'è o ci sarà un thread che dà tutti i dettagli se siete dalle parti dell'ecchese in realtà anche da Milano non è lunga ero fatta in motorino io col cinquantino quindi vi posso garantire che non è difficile sei sicuro Mike che vuoi parlare del tuo motorino e non era quello no non era quello era un altro era uno che aveva era un gilerino che aveva dieci anni al decimo anno ho deciso di farlo andare fino a Erwe a casa di Marco e sono andato anche a John va bene perché sto parlando del mio motorino ok passiamo alle news avete qualche annuncio da fare voi? non mi pare ok no no niente possiamo passare a bombazza come direbbe Burmotti alle news guardavo le news sono praticamente tutte dedicate a Marte una buona parte o dedicate direttamente a Marte o con un collegamento almeno simbolico con Marte sì perché col fatto cioè che a novembre si apriva una finestra di lanci importante per raggiungere il pianeta chiaramente molte notizie almeno quelle dei lanci chiaramente si sovrappongono tutte in questo periodo quindi è un mese pieno per quanto riguarda le missioni verso Marte la motivazione quindi non è casuale e il nostro Riccardo è veloce a farcela notare in realtà quella di Mars 500 direi che è praticamente casuale si è conclusa l'abbiamo detto la volta scorsa perché era praticamente conclusa ne parliamo alla nausea da varie puntate parlando del nostro amico Diego Urbina ma questa volta è una notizia ne parliamo direttamente si è conclusa la missione Mars 500 che lo ripeto giusto per completezza ma non non credo che sia necessario è la missione di simulazione a tempo reale di una missione umana verso Marte sei persone sono state chiuse all'interno di questo simulatore avevo anche le mie punti davanti che sono spariti quindi adesso abbraccio potrei dimenticarmelo due russi un cinese un italiano e un francese ho letto giusto sono cinque però così no sono italiano francese cinese c'è un italiano un tedesco un francese sembra una mazzerletta ma non è una mazzerletta sembra una mazzerletta però se io faccio riapri finestre a caso troverò quella che ho chiusa incredibile ragazzi se io non c'ero avanti un pezzo di carta digitale o meno rischio di dire ma anche se le so le cose automaticamente le trasformo in misteri insondabili eccolo qua trovato giusto per non dire stupidate tre russi eccolo tre russi un cinese un italiano un francese i russi essendo non erano unici erano difficili da ricordare come non saprei dire neanche i nomi mentre invece degli altri forse sforzandomi riuscirei a ricordarceli a ricordarmeli Diego Urbina sicuramente è quello che ci ricordiamo di più ho visto la sua conferenza all'uscita oggi e non avevo ancora avuto modo di vedere la cerimonia del hatch opening quando sono usciti dal simulatore è l'unico che ha fatto la conferenza in italiano in inglese e in spagnolo infatti a un certo punto quando ha fatto prima perché Diego Urbina non è di origini solo italiane quindi ha parlato anche in spagnolo ha fatto prima la conferenza in inglese poi è passato all'italiano e poi ha detto adesso in spagnolo poi la smetto con grande divertimento dei giornalisti niente la notizia ufficiale è questa la missione non sarà finita fino a quando non avranno fatto tutti i test una volta tornati avranno replicato parte degli esperimenti loro stessi erano gli esperimenti all'interno del simulatore perché tutto quello che concerne l'isolamento di 520 giorni passati all'interno di una nave spaziale in 5 era chiaramente un esperimento fisiologico e psicologico perché non potevano chiaramente simulare la mancanza di gravità o le radiazioni che dovrà sostenere un equipaggio in viaggio verso Marte però tutto il resto era assolutamente realistico incluso il ritardo delle comunicazioni dovuto al tempo luce tra i 15-40 minuti di round trip time per le comunicazioni non è possibile parlare al telefono insomma e dico ciao come stai 20 minuti dopo dall'altra parte lo sentono e dicono io sto bene e dopo 20 minuti io sento io sto bene è complicato però siamo riusciti a mandarvi ad esempio astronauti cast per buona parte del suo viaggio e adesso è il momento di fare debriefing e test e raccogliere tutti i risultati di questa straordinaria simulazione Jean-Jacques Dordain giusto per citare una dichiarazione ufficiale il direttore generale dell'ESA ha dichiarato ha ringraziato i ragazzi per il loro sforzo ha riconosciuto il coraggio perché ci vuole anche un po' di fegato per chiudersi 520 giorni all'interno di un simulatore e di fatto ha riconosciuto che hanno devoluto quasi due anni della propria vita per questo progetto e Diego Urbina gli ha fatto eco dicendo che è stato il viaggio spaziale più lungo della storia e si è svolto qui sulla Terra e serve per poter vedere un giorno l'alba su un pianeta lontano ma raggiungibile Marte è chiaramente lo step successivo nell'esplorazione umana del sistema solare non sappiamo i tempi non sappiamo i modi con cui ci si arriverà ma direi che la strada è tracciata e direi che la la notizia si chiude qua ma Marte rimane in primissimo piano proprio per questo motivo giusto per non parlare soltanto io andiamo in rigoroso disordine l'altra volta avevamo accennata questa no? su Mars Express aveva detto qualcosa Luigi avevamo detto che c'erano dei problemi su Mars Express c'era qualche riavvio del computer di bordo si è mosso qualcosa? non l'ho seguito? no di fatto sono ancora sono ancora studiando il problema ed è da è un problema che risale il 13 agosto quando Mars Express ha avuto il primo safe mode di questa serie richiamiamola così di fatto sono successi dal 13 agosto al 16 ottobre l'ultima l'ultima volta che poi è stato interrotto il funzionamento della sonda sono avvenuti 4 safe mode e quindi si sta cercando di capire quale può essere il problema le prime ipotesi parlavano di altri sottosistemi però sembra che il problema principale si risieda nella memoria è stato solido proprio della sonda quindi stanno cercando di trovare una soluzione o cercare di isolare una parte di memoria o cercare di cambiare i protocolli di uso della memoria comunque in sostanza durante i safe mode la sonda va in uno stato di stand by chiamiamola così e per riattivare il funzionamento in modalità normale e quindi con le attività scientifiche deve fare un ripristino della posizione dell'assetto quindi deve fare la ricerca del sole la ricerca delle stelle posizionarsi e ritrovare l'assetto ottimale durante queste manovre però consuma un sacco di carburante perché sono movimenti molto estesi perché deve arrivare a puntare sia il sole poi le stelle e poi riposizionarsi nel suo assetto standard diciamo così e con tutti questi spostamenti consuma molto carburante i calcoli fanno capire che ad ogni safe mode recuperato il mass express consuma l'equivalente di propellente che serve per sei mesi di emissione quindi quattro safe mode in tre mesi vuol dire che hanno perso due anni di missione sostanzialmente potenziali potenziali sì ovviamente ESA ci tiene a far presente che il propellente presente a bordo di mass express è ancora superiore a quello necessario per dieci anni di missione quindi comunque non è grave il fatto di aver perso questo propellente però resta il fatto che a questo punto è inutile riavviarla che funziona che funziona poi per qualche giorno e poi ritorna in safe mode quindi prima di fare un nuovo riavvio definitivo si cercherà di trovare una soluzione definitiva al problema ovviamente stanno lavorando con il clone della sonda che c'è a terra e cercano in qualche modo di simulare il problema e ovviamente cercare una soluzione attualmente è in orbita nella sua orbita standard intorno a Marte però è addormentata in attesa di istruzioni con l'antenna puntata verso terra e basta ovviamente viene tenuta sotto controllo soprattutto per il fatto che non vada in rotazioni strane in movimenti strani anche perché comunque la NASA dà sempre l'appoggio totale e c'è il Deep Space Network che sarebbe la rete di tutte le sonde sparse nel sistema solare che può in ogni momento inviare informazioni fargli arrivare anche non in una direzione molto prestabilita possono essere qualsiasi altra sonda che invia informazioni a questa in crisi speriamo che si risolva più presto che possa ricominciare il suo spettacolare lavoro in orbita su Marte io ho qualche problema tecnico perché c'è qualcosa che si sta bevendo tutto il processore e tutto quanto si muove come la melassa mi sentite? si si io ti sento Mike io ti sento benissimo pensavo chiedessi alla chat la chat ho dovuto chiuderla perché mi sembrava che fosse quella la causa ci sono i gremlins ragazzi in questo studio ok ho perso il filo scusate hai parlato di Mass Express speriamo che si riesca a risolvere il problema con una patch chiaramente la memoria è sempre una questione un po' spinosa mi ricordo anche i problemi di memoria che ha avuto molto molto vicini all'inizio della missione Spirit lì era un problema un po' diverso semplicemente non era stato previsto il comportamento in caso di riempimento totale dell'SSD che è a bordo o dell'equivalente di un SSD si era il problema del durante il passaggio dietro il Sole di Marte che doveva accumulare a bordo tutti i dati che stava registrando e quindi se la memoria superava una tot percentuale di spazio occupato poteva resettarsi tutto che non è una cosina da poco in effetti no ma in realtà si era proprio bloccato aveva fatto qualche giorno in cui non si riusciva praticamente a comunicare c'era soltanto un safe mode a bassissima bitrate e quindi si è voluto anche del tempo a identificare il problema e poi fondamentalmente facendo una cancellazione di dati si era recuperato secondo me non swappava probabilmente non swappava non lo so comunque c'era un problema completamente diverso però il problema è sempre testarlo questo software diciamo che si possono fare tutti gli unit test che si vuole un po' tecnico questo però quando voi sviluppate il software potete dividerlo in pacchettini e dire ok provo se funziona questo pacchettino sembra che tutti i pacchettini funzionano e poi l'insieme in realtà lo dovete testare come un sistema a se stante per poter avere la certezza che funzioni quello che è difficile fare è testarlo in condizioni reali se il software di cui stiamo parlando è un gestionale per caricare e scaricare il magazzino basta portarlo al magazzino e dire al magazziniere senti poi oggi oltre a farlo sul vecchio software fare il carico e scarico su questo software e vediamo se non si inchioda e quando arrivano i pallet con le bolle da registrare è un po' diverso quando il software è quello di una sonda interplanetaria è il caso appunto e stiamo sempre in direzione Marte anche se ahimè siamo ben più vicini è il caso di Phobos Grunt la missione di cui avevamo annunciato il lancio imminente la settimana scorsa il lancio è avvenuto senza problemi martedì sera mentre noi avevamo planetario con Samantha Cristofretti lo dico così giusto per rinfrescarvi la memoria sapete eravamo lì con la nostra amica Samantha ci stavamo divertendo tantissimo tutti insieme perché siamo un gruppo fantastico però voi non ce l'avate così intanto fa bene anche questa è una battuta alla Marco proprio che salutiamo che stasera ma io imparo dai migliori imparo dai migliori la fine arte del rosico e allora il lancio non ha avuto problemi proprio perché nulla poteva avere problemi in una serata così bella ma il problema il problema si è verificato nel momento in cui la sonda avrebbe dovuto lasciare l'orbita terrestre con due accensioni del terzo stadio e porsi nella sua orbita di trasferimento in direzione di Marte queste due accensioni non ci sono state e all'inizio non era chiaro il perché semplicemente si era persa non si riusciva più a trovarla perché non era nella traiettoria prevista è stata facilmente recuperata e riacquisita ma non era chiaro il perché questi lanci questi accensioni siano fallite l'analisi della telemetria con qualche difficoltà perché i russi non hanno un sistema come il DSN il Deep Space Network quello che hanno gli Stati Uniti e che viene utilizzato anche dall'Europa per scusa in questo caso dovrebbero usare i TDRS i satelliti quelli che fanno da ripetitori che sono stati lanciati per lo shuttle infatti la NASA adesso li utilizza per le comunicazioni dall'orbita bassa a quello si però per il tracking delle sonde usano di solito il DSN quando sono più lontane per adesso che ancora in orbita bassa nella prima parte utilizzano beh si effettivamente ha senso c'è una costellazione chiamata tracking and data relay satellites che offre praticamente la copertura quasi globalizzata abbiamo fatto una discussione molto interessante riguardo sul forum qualche settimana fa dell'orbita terrestre e quindi permette di avere una telemetria costante di un oggetto in orbita i russi non hanno a disposizione un sistema così avanzato e si affidano a ground station a stazioni di terra per il tracking e l'ascolto della telemetria dei loro satelliti quindi per una buona parte dell'orbita di Fabos Grunt non si sapeva cosa era successo ora pare che il problema inizialmente il problema è stato identificato come un problema degli star tracker dei dispositivi che permettono alla sonda di identificare le stelle gli stessi di cui ha parlato prima il nostro Luigi per Mars Express quindi la sonda non poteva identificare il suo appuntamento e non ha saggiamente deciso di non partire in direzione casuale con il terzo stadio in realtà il problema appare dicevamo prima essere riconducibile a un problema software e quindi speriamo corregibile e speriamo di poter vedere Fabos Grunt partire nella direzione di Marte le ultimissime notizie le ha viste meglio Luigi prima mi dicevi che stavi leggendo su quale non stavi leggendo su Novosti Cosmonautici su altri forum in giro stavo leggendo appunto che attualmente Fabos Grunt è su un'orbita di 208 per 350 chilometri e a questa quota hanno fatto i calcoli che ci vorrà circa un mese prima che rientri quindi comunque deve partire entro un mese per il fatto che appunto dicevamo prima che siamo nel mese ottimale per raggiungere Marte e poi questo è un secondo motivo per cui deve farcela a comunque a sollevare l'orbita e a partire perché se no rientrerebbe una delle notizie che stavo appunto leggendo poco fa riguardava quello che dicevi delle stazioni di terra so che ha chiesto Roscosmos ha chiesto l'appoggio anche degli altri delle altre stazioni di terra e so che pare che da da Coru siano riusciti a stabilire una comunicazione però non si sa ancora ovviamente i russi sembra che continuino a fare come facevano una volta non dicono le cose immediatamente ma devono sempre lasciare un po' decantare le informazioni pare che sono riusciti a inviare dei comandi e devono adesso sapere se sono andati a buon fine o no un'altra informazione sono ecco nella malaugurata ipotesi che possa rientrare a terra c'è l'unico c'è gente che dice se è un disastro una cosa molti dicono e secondo me è anche giusto che ci sono 7 tonnellate di idrazina a bordo che appunto è il propellente che serve per spedirla 7 tonnellate di idrazina? sì i propellenti sono quelli pare che sia idrazina parlavano di quello l'idrazina è molto tossica ricordiamo no ipergolici scusa ah ok beh l'idrazina comunque in ogni caso nel caso di rientro atmosferico no non sono tecnico appunto da conoscere le differenze nel dettaglio dei due propellenti dicevo nel caso di rientro comunque 7 tonnellate sono praticamente una bomba quindi nel momento in cui uno dei dei serbatoi si surriscaldi e possa esplodere fa un bel fuoco d'artificio però disintegra completamente la sonda a quel punto lì in effetti ha un senso come cosa sono 3 tonnellate in tutto 7 solo di propellenti se rientra fa un bel botto certo qualche pezzo può arrivare a terra ma molto probabilmente non è come un telescopio che può avere uno specchio può avere delle parti un po' più massicce lì la parte che può rientrare è solo il modulo di rientro quello che dovrebbe riportare a terra i famosi duetti di terreno che ha lo scudo termico per definizione dovrebbe resistere a un rientro infatti ha lo scudo termico quindi eventualmente può rientrare quello mi pare che pesi 35 kg che la chiamano la pentola pressione adesso non so quanto sia grande non siamo abituati a seguire missioni russe sono 16 anni che non c'erano missioni interplanetarie russe però abbiamo esperienza di altri tipi di missioni seguite dai russi hanno anche loro gli insider che ogni tanto danno qualche informazione su Novosti Cosmonautici ragazzi voglio cambiare il nome al forum voglio chiamare il forum astronautico Novosti Cosmonautici è troppo bello non so dirlo ma è bellissimo è il forum astronautici? eh vabbè non è bello uguale non è bello uguale e per fortuna che non stiamo guardando non so i forum cinesi visto che c'è con Fabio Sgrunt una è vero controparte cinese magari anche lì c'è qualcuno non mi sono neanche scritto il nome del satellite cinese perché appunto l'avevamo detto l'altra volta c'è un piccolo satellite di 125 Yonguo mi sembra sì di 125 kg quindi piccolino piccolino che ha chiesto un passaggio alla sonda russa per arrivare nei pressi di Marte e vabbè stavo guardando una cosa carina un'altra che avevo letto è che il portavoce dell'accademia russa per la cosmonautica si chiama Igor Zilfkowski è un bel nome per essere il portavoce dell'accademia russa per la cosmonautica lui ha ha dato le prime informazioni che poteva trattarsi di un bug software forse per far crescere un po' la speranza perché nella stessa frangente ha dichiarato che un bug software è facilmente o comunque risolvibile e mentre invece se fosse effettivamente uno star tracker fallito non non ci sarebbero molte speranze per raggiungere Marte si diciamo che i problemi di comunicazione sono anche dati dal fatto che lo stadio orbitale terzo stadio essendo rimasto agganciato non so se l'hai già detto Mike che essendo rimasto agganciato alla sonda in pratica copre una parte dell'antenna e quindi è difficile comunicare sì è vero l'avevo dato prima ma fuori da fuori onda quindi sì sì ah ok vabbè diciamo sì un'altra cosa che volevo dire anche che su una rivista cinese è comparso una critica nei confronti dell' dell'agenzia spaziale cinese che si è fidata dei russi perché è notorio che i russi non sono capaci a mandare sonde su Marte perché su 20 sonde che ha mandato ne sono arrivate solo due beh è un pessimo una pessima statistica parlavamo di statistiche la volta scorsa con il link della settimana sulle statistiche no assolutamente non è una cosa invidiabile allora io mi devo salvare il link della settimana di oggi che a momenti lo perdo ce l'avevo nella 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 clipboard come si chiama negli appunti ho fatto ctrl v giusto per salvarlo eccolo qua Marte Marte ancora le notizie appunto perché c'è questa finestra particolarmente favorevole come si ripete ogni due anni per raggiungere il pianeta rosso anche il prossimo rover marziano MSL Mars Science Laboratorio per gli amici Curiosity che è un nome che non ha mai convinto nessuno di noi almeno a qualcuno piace il nome Curiosity onestamente cavallo curioso no non mi convince ma ci teniamo quello certo in mancanza d'altro siamo costretti a chiamarlo così però è stato un nome abbastanza infelice ma anche Tranquility la scelta dei nomi americani non mi piace ultimamente Spirit Opportunity era belli sì Spirit Opportunity ma quale era stato scelto con le scuole se non sbaglio no Opportunity ha il senso che lui era la seconda opportunità se Spirit falliva ma anche Curiosity no non è stato un voto di ragazzi delle scuole mi sembra ma c'è quasi un cosa sono dieci anni in mezzo mezzo generazione comincia a essere un po' se vogliamo usare quello come termometro della creatività dei ragazzi di oggi forse assolutamente non è vero magari la creatività dei giudici che hanno scelto magari sono gli stessi e sono stanchi magari la figlia del giudice basta con le cattive arie allora Curiosity o comunque MSL è arrivato al Launch Complex 41 della Cape Canaveral Air Force Station a due passi dal Kennedy Space Center considerati praticamente la stessa cosa per il lancio previsto per il 25 novembre è già contenuto nella sua ogiva abbiamo visto le immagini su forum astronautico vorrei anche mostrarvele ma non c'erano qua pronte mi sono girato fiducioso verso astronautinews.it perché anche lì trovate tutte le informazioni ma inquadrati un po' perché inquadri sempre me ma sai cosa perché voi voi scattate da soli e io invece devo cliccarmi io e cliccare su di me mi fa un po' impressione comunque non è una cosa che non viene spontanea hai ragione hai ragione fatemelo notare perché mi devo abituare la regia è complicata al Launch Complex 41 niente volevo farvi vedere le immagini non le trovo ma non è serata eccole qua dell'ogiva che viene issata sopra al razzo Atlas 5 pronto per la partenza il 25 novembre gli step che mancano da qui al giorno del lancio sono quelli che servono alla preparazione del vettore ma c'è ancora un'operazione da compiere sul rover che è quella di inserire e installare l'RTG ovvero il generatore di energia a radioisotopi che va fatto all'ultimo momento per una serie di ragioni ed è la fonte di energia di questo rover diversamente da Spirit Opportunity che dipendono da pannelli solari per funzionare MSL dipende da un RTG che genera l'energia utilizzando un materiale radioattivo che genera energia termica e poi con un sistema questa viene convertita in energia elettrica e anche utilizzata per riscaldare parte del rover ho letto una cosa interessante una notizia adesso non vorrei fare le notizie molto telegiornale quindi vi dico le cose che mi piacciono che leggo approfondendo un pochino nell'ottimo articolo del nostro Filippo c'era scritto che l'energia termica generata è soltanto in minima parte anche per ragioni di efficienza credo convertita in energia elettrica buona parte viene utilizzata per riscaldare quello che su Spirit Opportunity viene fatto con riscaldatori elettrici con delle piccole resistenze la componentistica del rover ma addirittura il calore in eccesso ricordiamo che su Marte non fa caldo almeno per gli standard terrestri il calore in eccesso deve essere dissipato con un sistema di raffreddamento un circuito di raffreddamento che usa un liquido di raffreddamento quindi le operazioni da compiere in rampa all'ultimo minuto sono l'installazione di questo liquido di raffreddamento e dell'RTG avrò detto qualche stupidata che il nostro Filippo mi sta già correggendo in chat se è così me ne scuso no lo vedo abbastanza tranquillo molto bene ho paura mi sento un po' sotto pressione quando leggo le notizie di Filippo Filippo è precisissimo andate su astronautinews.it è una delle ultime notizie bella lunga bella completa e avete le informazioni sulla preparazione al lancio il 23 novembre due giorni prima del lancio l'Atlas 5 verrà spostato dall'area in cui si trova adesso arriverà al pad direttamente sulla rampa di lancio pronta per la partenza speriamo che abbia un po' più di fortuna di Fabos Grunt Fabos Grunt Grunt significa suolo ok giusto per c'è una diatriba anche su quello sul blog della Planetary Society che è una fonte di informazioni molto molto preziosa per quanto riguarda l'astonautica unmanned avete l'articolo di Emily Lakdawalla che diceva che molta gente gli ha scritto dicendo guarda che dovresti dire Phobos suolo o soil perché soil viene dalla missione principale del satellite che appunto va a riportare a terra parte del suolo di Phobos però la sua giustificazione è molto molto pragmatica è l'intera stampa lo chiama Phobos Grunt la gente su google cerca Phobos Grunt io lo chiamerò Phobos Grunt mi sembra che non faccia una piega ma in effetti sono loro è come se noi invece di Spishat dicessimo navetta spaziale e diventa generico detto nella lingua giusta sì però Phobos è traslittera beh in effetti Phobos è Phobos potrebbero chiamarlo ma secondo me è la classica precisione di quelli che rompono le scatole esatto precisini Phobos significa panico o paura se so che Phobos e Deimos sono paura e terrore qualcosa di simile mi sembra quindi probabilmente un ascoltatore o un lettore greco di Emily Lackdawalla potrebbe correggerlo ah Filippo deve usare il greco anche per l'altra parola Isa Pinza dice pena e panico pena e panico Filippo dice che l'altra potrebbero chiamarlo Phobos con la F se le dici Grunt perché in in russo se le dici Grunt dovresti dire Phobos utilizzando la F o quantomeno la la traslitterazione della F cirillica però era bellissimo lo Zenith in rampa con la scritta Zenith in cirillico e sembravano i caratteri quasi di di Next Generation del carattere tipo della sì sì il tipo di carattere della scritta sembrava quasi la la Fenix che partiva per il primo contatto a proposito di Fenix sai che Mike c'è stato dove la lanceranno o non ci sei andato dove scusa alla fine dove come dove non nel tuo viaggio negli States si è perso non ho capito dove lanceranno cosa Zefran Cochrane ah ho capito quella Fenix ok pensavo a qualcosa ok il mio ultimo viaggio sono passato da Edwards e sono passato dal dal del deserto del Mojave però ecco mi pare che debbano lanciare nulla a breve da lì no la Fenix ok facciamo un attimo un attimo nerd la Fenix è la prima nave a curvatura del genere umano lanciata nel 2063 pilotata da Zefran Cochrane dal Montana e mi sta sfuggendo il nome del paese adesso dalla chat arriverà ovviamente ho fatto l'introduzione lunga proprio per prepararla aiutatemi ragazzi non è Billings nel Montana è un altro posto Fairmont no vabbè comunque no ci sono andato vicino ci sono andato fino a qualche miglio perché era appena fuori dal parco di Yellowstone dalla chat scrivono Alabama non c'entra nulla no è abbastanza lontano dall'Alabama accidenti il mio animo tracker è Boseman Boseman giusto sì ero lì ci sono andato a vedere non me lo ricordavo perché è stupido Boseman Montana sì perché siamo finiti a parlare della Phoenix per la scritta che c'era per i caratteri sul fairing è tutta una associazione di idee uno se la fa mentalmente però quando la bici diventa una roba se non c'è Marco deragliamo purtroppo così oddio già se non c'è Paolo Amoroso ragliamo anche un po' sì ecco bravo già se non c'è Paolo Amoroso allora dai c'è ancora qualche notizia in breve poi passiamo al resto del podcast il primo volo di Orion è stato pianificato per il 2014 avete ho visto il video carino però è un video sì cioè in realtà neanche tanto tempo fa si parlava di fine 2013 di fine 2013 adesso siamo passati a diciamo alla prima la prima parte del 2014 comunque stiamo parlando di quello che si chiama Exploration Flight Test 1 che sarebbe il primo volo di test effettivo della capsula Orion mi sento un po' deco in cosa consiste questo volo praticamente Orion che nel 2014 quindi si spera sia già in fase avanzata di progettazione ha comunque necessità di un lanciatore e nel 2014 SLS non sarà ancora pronto quindi si pensa appunto di montarlo su un Delta 4 e lo stadio il primo stadio sarebbe quello di un Delta 4 e invece lo stadio la Prestige sarebbe uno stadio appositamente modificato per poter alloggiare Orion e soprattutto per alimentarlo perché in questa configurazione di volo Orion non avrebbe ancora i pannelli solari che si dispiegano non so se qualcuno di voi ha visto qualche animazione del volo di Orion che ha questi pannelli chiusi che si aprono a ventaglio può anche valere il volo di Phoenix in primo contatto si vedono i pannelli che si estendono anche in Phoenix no in realtà non sono i pannelli sono le gondole a curvatura sono le gondole che si aprono quindi a parte diciamo il sistema dei pannelli solari molti sistemi critici della sonda della capsula verranno testati con questo volo che in particolare prevede due orbite intorno alla Terra quindi non appena avviene il lancio si stacca lo stadio inferiore si staccherà il LAS che comunque sarà una massa inerte e quindi non è che sarà attivo in tutto per tutto anche perché la capsula non sarà abitata sarà appunto un volo di test dopodiché lo stadio superiore accenderà i motori una prima volta per circolarizzare una prima orbita alla fine della prima orbita accenderà i motori una seconda volta per alzare di parecchio l'orbita perché uno degli scopi principali di questo volo di test è valutare il comportamento dello scudo termico per rientri ad alta velocità perché sappiamo che Orion è destinato di andare ben oltre la Luna su Marte come si diceva prima vuoi cilasteroidi quindi lo scudo termico deve essere dimensionato per un rientro a velocità superiore di 32.000 km quindi è fondamentale per la sicurezza degli astronauti che tutto funzioni perfettamente altro aspetto della sicurezza importante una volta che rientra la capsula e lo scudo termico la protegge chiaramente sono i paracadute che quindi a loro volta verranno testati la capsula se il test rimane pianificato come adesso dovrebbe atterrare nel Pacifico e quindi tutte le squadre di supporto saranno impegnate proprio come se dovessero fare un recupero degli astronauti quindi anche questo aspetto verrà messo alla prova continuo con una rapida carrellata sempre per quello che riguarda Orion e il sviluppo dell'SLS e dell'MPCV facendo una carrellata un po' su tutti gli Stati Uniti per farvi capire che un po' ci sono noi siamo sempre abituati a parlare o di Houston o del Kennedy Space Center però in realtà i progetti così complessi in realtà mettono cioè entrano in gioco tanti piccoli stabilimenti che sono sparsi per tutti gli Stati Uniti ad esempio a Michoud Michoud si dice mi sbaglio sempre Michoud non ti sento mai Michoud 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 in Louisiana che è uno stabilimento che forse vi ricorderete perché che è lo stabilimento dove venivano costruite le external tank per lo space shuttle si sta già assemblando proprio si sta cominciando a costruire questa capsule Orion che sarà impegnata in questo tipo di test Michoud grazie Google se era Google no era era Mac ah era Mac proprio in persona grazie Mac Michoud 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 invece andando in colorado a tempo grazie sono astronautica a 9m vedimi poi un saluto anche a Paolo che non c'è passiamo dalla Louisiana al Colorado dove a Denver si sta testando il GTA cioè il Ground Test Article che è diciamo il primo modello Orion completato e che in questi giorni insieme ad un LAS sta facendo una serie di cicli di test dentro a una camera per valutare gli stress acustici ai quali sarà sottoposto durante il lancio e anche alle vibrazioni quindi anche questo è un aspetto molto importante andando in Arizona se capite di là magari potete vedere un Orion che sta precipitando perché stanno testando i paracaduti quindi i test sui paracaduti stanno avanzando a step successivi in modo che la configurazione assomigli sempre di più a quella definitiva che ricordiamo è a 8 paracaduti ci saranno 2 drog 3 pilot e 3 main e per rimanere in tema questi 3 main questi paracaduti principali sono davvero enormi come direbbe Mike e se non erro sono come direi io e Mike mi riderebbe in faccia e se non erano sono i più grandi paracaduti mai costruiti se non ricordo male da Arizona vogliamo in Virginia dove all'Engley Reserve Center c'è un enorme strano c'è una grande vasca dove vengono fatti ammarare ammarare no è una vasca vengono fatti vengono lanciati in acqua un mock up della capsule Orion per vedere appunto il suo comportamento durante l'ammaraggio i test in assetto nominale sono andati bene ora si sta provando un po' con degli asset inusuali tipo in caso di aborti lancio oppure con vento forte e qui la capsule vediamo che qualche volta si è anche capottata c'è un video che troverete nell'episodio dove NASA ha anche organizzato un tweet up per far assistere le persone a questi test che sono molto spettacolosi poi andiamo in Mississippi dove allo standing space center invece è stato testato il motore J2X che vi ricordo farà parte del sistema SLS in particolare sarà quello dello stadio superiore c'è stata un'accensione che è durata a 500 secondi quindi molto lunga anche qui c'è un video nelle note dell'episodio non si vede molto del motore perché il motore è inserito all'interno di un edificio e come se non bastasse per tutta la durata del test è sommerso da una valanga d'acqua che fa solo alzare una grande nuvola di vapore comunque il test ha funzionato a dovere infine vi ricordate che vi parlavo della piattaforma mobile di lancio qualche puntata fa vi avevo detto che al momento era sistemata era parcheggiata tra virgolette di fianco al VAB prima della fine del mese dovrà direi il 16 novembre sarà spostata nella rampa 39B la rampa 39B era una delle due rampe dalle quali veniva lanciata lo shuttle ora la vecchia rampa è stata completamente la vecchia torre di servizio è stata completamente smontata e verrà posizionata qui la MLP perché la mettono lì? intanto per comunque testare un attimo la movimentazione sempre col crawler dopodiché una volta arrivata là si inizieranno a testare tutti i vari sistemi di interfaccia tra la piattaforma stessa e praticamente tutte le altre piccole strutture di servizio che comunque sono invece nel sito di lancio sembra che verrà effettuato un test del sistema antincendio che dovrebbe essere molto spettacolare perché si simulerà un incendio e per spegnerlo si userà la stessa cascata d'acqua che vedete che vedevamo quando prima del lancio dello shuttle cioè verrà praticamente inondata completamente la torre della MLP dalla cima fino in fondo quindi molto spettacolare dopodiché poi dopo questa campagna di test sarà riportata di fianco al VAB dove nei prossimi anni si appronteranno quelle modifiche che serviranno per adattarla all'SLS perché ricordo che la MLP che così com'è era stata costruita per Ares 1 invece adesso sarà visto che Ares 1 non c'è più sarà adattata per supportare il lancio dell'SLS infine visto che mi chiedeva prima Filippo in chat non ho guardato bene in realtà tutte le notizie mi chiedeva di dare un piccolo aggiornamento di cosa stanno facendo gli shuttle sapete che in questi giorni sono praticamente smontati rimontati per essere poi spediti nei vari musei sappiamo che Endeavor è dentro al VAB quindi se voi siete al Kennedy Space Center fate il tour up close vi fermerete all'interno del VAB e lo vedrete ho letto che sono due dentro del VAB poi ho letto perché doveva in effetti andare Atlantis anche insieme a lui però penso che c'è un problema in questo momento Atlantis è ancora dentro alla OPF quindi ad oggi ce n'è uno solo però nei prossimi giorni comunque c'è questo avvicendamento quindi se passate andate sul forum trovate varie foto che appunto Filippo si prodiga sempre a mettere come vedrete gli shuttle sventrati di tutti gli angoli più nascosti inusuali scusate sono stato un po' lungo forse ecco mi merito il gong non avendo rubriche particolari a cui affibbiarlo abbiamo parlato di molta roba unmanned come tra l'altro non ci sono alternative essendo che le missioni umane sono ormai più soltanto quelle russe il volume è completamente scappato dopo il gong ok cerchiamo di farlo tornare un po' su se no non mi si sente e niente stavo dando un occhio ai link della settimana ne sta ugualando uno che però voglio guardarmelo con calma e ne parliamo magari la settimana prossima ha segnalato dal nostro Filippo gli altri due invece ci sarebbe la questua prima no niente ci limitiamo a ringraziare Raffaele Montagnoni donatore ricorrente ovvero uno che è andato su astronauticas.com e ha scelto uno dei due bottoncini gialli per fare una donazione ricorrente ogni mese testimoniare il suo supporto al podcast con un piccolo obolo ma non voglio farla questo a lunga ne abbiamo fatta altre volte la faremo in altre occasioni ringraziamo lui purtroppo Marco non è in trasmissione non mi può passare gli altri le altre ricevute le donazioni quindi non sono sicuro se è solo lui o se c'è anche qualcun altro probabilmente non è l'unico noi facciamo un grazie distribuito a tutti quanti a chi crede in astronauticast per ragioni mai sconosciute e decide di finanziare almeno in piccola parte in realtà è una cosa assolutamente volontaria che facciamo le donazioni vanno a finire nelle casse dell'associazione isa e vengono utilizzate poi per acquistare materiale per il podcast quando è necessario e altrimenti per finanziare l'associazione nelle sue spese come ad esempio l'hosting e tutto il resto ringrazieremo la settimana prossima volevo dire una cosa collegata alla quest continuate a commentare il nostro podcast sia sui social network magari condividendo le puntate per farle conoscere a qualcuno dei vostri amici che non ci ha mai sentito oppure su iTunes dove c'è uno spazio commenti sotto ogni podcast e quello è un modo particolarmente efficace per farci conoscere perché ogni volta che un commento finisce nella coda dei commenti di YouTube scusate di iTunes il podcast fa un piccolo step in classifica non pretendiamo di arrivare nell'Olimpo delle classifiche della top 10 dei podcast più scaricati in Italia però sicuramente avvicinarsi alle prime pagine è un'occasione di visibilità e potrebbe far scoprire il podcast a qualcun altro quindi dateci qualche stellina di valutazione su iTunes e magari lasciateci anche due parole rubriche ah ma c'erano rubriche quindi accidenti siamo stati su Marte tutta la puntata e adesso andiamo a finire così lontano Voyager 2 Luigi eh sì andiamo nella Helios Health nella zona in cui il vento solare comincia a fare appugni con il vento interstellare in questa zona qui a 14 miliardi di chilometri da noi c'è Voyager 2 che dopo 34 anni di missione ha deciso si è deciso dopo 34 anni di missione che doveva essere acceso l'ultimo motore perché in pratica l'assetto di queste sonde è basato su sei motori ovviamente per le tre direzioni di assetto imbardata rollio e beccheggio o beccheggio beccheggio dovrebbe essere e ogni coppia di motori praticamente orienta la sonda in uno di tre assi sulle sonde però c'erano due serie di motori una principale e una di backup allora siamo arrivati dopo 34 anni di missione a convertire l'ultimo di queste coppie di motori al motore di backup perché in questo modo hanno scoperto hanno scoperto hanno anche hanno capito che si risparmiano 12 watt per una sonda che sta viaggiando a questa distanza dopo tutto questo tempo e con un generatore RTG che all'inizio generava più di 500 watt più di 600 forse addirittura e adesso ne produce solo più 270 questi 12 watt diventano molto importanti e così si è deciso quest'ultima coppia di motori che sono quelli del rollio per la precisione gli altri due erano già stati sostituiti sostituiti erano già stati rimpiazzati tempo fa e questa coppia di motori ha eseguito 318.000 accensioni in 34 anni quindi considerate l'affidabilità di oggetti di questo tipo che sono oggetti uno parla di appunto di software l'affidabilità di queste sono sonde che dal 77 che viaggiano nello spazio posso far sentire vecchi un po' tutti quanti qui dentro sai che buona parte incluso me di quelli che stanno o da questo lato del microfono o in chat e anche qualcuno degli ascoltatori sicuramente non era neanche nato quando è partito eh lo so bene io invece ero nato e stavo già quasi andando in motorino pensa a te ecco qua io avevo un anno vabbè eh però c'eri già vedi eh gli anni possono eh comunque fra l'altro dopo questo cambio di motore il controllo del livello del propellente che è stato fatto dal controllo missione ha confermato che per almeno una decina d'anni c'è ancora propellente a disposizione quindi sarà eh diciamo che queste sonde potranno ancora stupirci di più di quanto non hanno fatto finora ma il risparmio energetico Luigi è dovuto al fatto che cioè l'altra l'altra coppia di motori era usurata e quindi usarne una nuova ma in realtà fa risparmiare 12 watt perché hanno spento i riscaldatori perché tenevano i riscaldatori dei condotti per il propellente accesi sia per la coppia che stava funzionando quella principale che è quella di backup spegnendo quella principale hanno spento questi riscaldatori quindi rimangono solo quelli della backup e questi 12 watt sono buoni grazie figurati mi scuso con gli ascoltatori perché il volume probabilmente di questa ultima parte di trasmissione sarà particolarmente basso anche in post produzione non potremmo fare molto ma questa sera funziona così ragazzi non ce la possiamo fare c'è una domanda per Monzi in chat in realtà deve ancora scriverla quindi potrebbe essere anche una stupidata fa schifo lo store no quanto tempo impiega un segnale arrivare a Voyager se non vado errando sono 14 ore no 12 ore 12 ore e mezza ok mi ricordavo un numero pari abbiamo detto 12, 16, 14 quindi siamo aspetta vabbè dai l'ordine di grandezza ci siamo più o meno io a me ricordavo un 16 Phoenix in chat dice 17 Phoenix relance 17 vai ma con l'ordineale o senza no vabbè dai comunque si tratta dei limiti estremi del sistema solare tu parlavi prima del punto parlavi prima del punto in cui il vento solare si scontra con il vento interplanetario se volete avere una rappresentazione grafica che non vi farà più lavare le mani come prima di sentirla da me andate in cucina o qualunque robinetto con il fondo piatto e fate scendere l'acqua abbastanza verticale noterete che intorno al punto in cui il getto colpisce la superficie l'acqua si allontana radialmente dal punto di contatto quindi viene spruzzata molto velocemente parallela al fondo del lavandino se guardate dopo a una certa distanza questa velocità scende di botto e diventa praticamente una specie di disco di anello intorno alla parte con l'acqua veloce scusate l'ho descritta malissimo ma spero che avendo aperto il lavandino qualche volta nella vita viate capito e poi all'esterno c'è il flusso d'acqua molto molto più più casuale che è quello dell'acqua che già sta nel lavandino e lei è in attesa di scendere dal drain come si chiama dal buco il flusso laminare è quello all'interno il flusso turbolente è quello della transizione e quello la stessa cosa appare succede in tre dimensioni invece che in due dimensioni ai limiti estremi del sistema solare ve l'ho detta così giusto per così raccontare allora dieci ore fa la Voyager 1 si trovava a 16 ore 33 minuti e 43 secondi luce da noi Voyager 1 la Voyager 2 adesso arrivo e attenzione che Viger potrebbe tornare quando meno ve lo aspettate 13 ore e 29 minuti 13 ore quindi non è neanche un numero pari quindi Phoenix dovrebbe cadere il 17 spariamo i nostri link della settimana e poi ritiriamoci perché perché è meglio così siamo già oltre l'ora link della settimana galleria fotografica per la fine della missione mass 500 non l'ho ancora vista forse l'ho vista ma non l'ho vista con questo link è molto molto interessante chi l'ha segnalata? io io ah sì classiche foto di rito dall'apertura del portello alle conferenze stampa e alle prime visite mediche a cui sono stati sottoposti il team di Mars 500 quindi sì abbastanza sì una galleria classica insomma per capire un attimo se magari qualcuno di voi non ha mai visto le facce di queste persone chi sono e poi uno spunto per magari visitare la sezione del sito del sito dell'ESA che parla di Mars 500 per magari saperne qualcosa di più di questa di questa incredibile insomma avventura sì carina la foto che vedete adesso se stete guardando la versione video o siete in diretta c'è l'apertura del portello dove si vede il sigillo con i due bottoni di cera lacca che è stato rotto nel momento dell'apertura ho visto che quando mancava qualche secondo lo scadere dei 520 giorni c'era questo ufficiale non so non so chi quale fosse il ruolo della persona che sta aprendo il portellone che era proprio lì davanti inquadrato in silenzio a contare i secondi per l'apertura ok quella era la porta di ingresso nel simulatore di Mars 500 l'altro link Riccardo l'altro link sempre io l'ho segnalato vabbè comunque si riallaccia a quello che di cui hai parlato tu nelle news c'è che MSL è pronto al lancio se volete scaricare il classico press kit lo trovate lì come tradizione nasa è un documento pdf con tutte le informazioni della missione tutte le curiosità sia dal punto di vista numerico quindi payload strumenti di bordo sia per capire la traiettoria che farà prima il rover prima di arrivare su Marte è il classico handbook da avere sotto mano se si vuole seguire una missione il bigino per i giornalisti esatto va bene va bene va bene l'altro link della settimana ne discuto poi con Filippo l'ha segnalato ma voglio capire un attimo di cosa parla perché voglio raccontarlo bene non voglio semplicemente sbolognarlo visto che l'ha segnalato poco fa l'appuntamento allora ve lo rilancio per il 17 di novembre il prossimo giovedì con la prossima puntata la numero 7 della stagione 5 di Astronauticast è sempre un piacere volare con voi ragazzi anche informazione ridotta da Michael Sacchi Astronauticast Studios di Milano è tutto da Luigi Morielli Carmagnola è tutto e da Riccardo Rossi per gli amici Enrico Enrial un saluto a tutti da Modena ciao ciao a tutti vi lascio con Isca il nostro menestrello con Cittadini del Presente Grazie a tutti Grazie a tutti